ciao a tutti eccomi di nuovo qua come promesso a farvi vedere le mie creazioni sono settimane che sto realizzando con la tecnica del peyote vari tipi di incassonature ho realizzato per ora due ciondoli questa è il primo ciondolo forma di farfalla è un ciondolo veramente bellissimo è molto luminoso anche se generalmente l'oro arancione non piacciono sono i miei colori preferiti però insomma mi piacciono molto soprattutto questa farfallina è davvero deliziosa ho realizzato questa farfallina grazie a uno schema che ho trovato sul giornale perline e niente è realizzata incassonando due rivoli da 14 mm e due rivoli da 12 mm e successivamente abbiamo realizzato questa fascetta e con un chiodino ho messo dentro uno swarovski da 5 la fascetta dove avevo già cucito poi la struttura e una pallina swarovski da 8 mm e niente l'ho agganciata ad un anellino messa dentro una catena semplicissima color oro perché secondo me deve comunque risaltare la il ciondolo se facevo una una catena già un po più importante il ciondolo magari poteva perdersi via almeno questo è il mio parere è un come dicevo appunto un ciondolo veramente bello anche se comunque ci ho messo tre giorni nel realizzarlo è vero anche che lavorando si realizza le varie incassonature nei ritagli di tempo cioè a casa poi con la casa con il fidanzato e quant'altro insomma non il tempo poi ne rimane veramente poco per dedicare alle creazioni però insomma mi rilassa dico sempre che mi rilassa successivamente ho creato questo ciondolo un incassonatura di questo cabuchon che vi ho fatto vedere che ho acquistato da brillanti creazioni l'ho finito ieri sera ecco perché non c'è ancora una catena non so come farla nel senso che in casa non ho niente di di bello poi essendo agosto ormai hanno chiuso quasi tutti per cui va bene io per ora sto realizzerò vari tipi di ciondoli incassonature via dicendo poi a settembre alla riapertura dei negozi penserò diciamo alla parte sopra niente allora torniamo noi ho incassonato appunto questo cabuchon con 88 delica di base è un cabuchon bellissimo a me piace appunto questa rosa l'ho incassonato normalmente e ho realizzato non so se poi riuscite a vedere perché la telecamera non mette a fuoco bene queste specie di piccole ondine l'ho fatto per fare in modo che il cavo sono rimesse abbastanza fermo dentro la all'incastonatura successivamente ho realizzato una coroncina con svaroschi da 4 mm nella prima fila appunto li ho messi dentro ho scelto tre tipi di di colori di cabuchon adesso beh nomi esatti dei di colori non non li so comunque ho un colore un bordeaux un crist e un lilla l'ho fatto per due motivi uno perché non mi erano rimasti svaroschi sufficienza per fare una di un solo colore tutta la la coroncina e due perché ho reso anche la creazione un po più movimentata nel senso che non tenendo un colore unico l'ho colorata toccioniamola così successivamente nelle file dietro ho messo alternando vedi qua ci sono dei passaggi che ho lasciato stare con un filo che devo tagliare ancora ho messo comunque delle perle svaroschi da 4 mm e insomma ho realizzato diciamo però la la parte dietro la parte sotto e niente poi la solita classica fascetta e insomma questi due sono veramente belli poi sto realizzando altro ma per ora non ho ancora pronto niente il prossimo che realizzerò è questo cabochon qua che oltretutto è molto più piccolo di questo l'ho provato ieri a incastonare con 70 delica di base ma non non bastavano poi mi si è rotto il filo quindi un casino lo rifarò però sinceramente non ho ancora ben idea di quante delica di base devo devo inserire niente vabbè prossimamente poi ve lo farò sapere anzi chiunque magari ha già lavorato questo cabochon se riesce a darmi un consiglio su quante delica di base lo ringrazio poi vabbè vi faccio vedere anche un altro anello fatto con gli svaroschi in una base con la base a retina dove è un anello chiamato ninfea almeno chi l'ha realizzato l'ha chiamato così sono i cuoricini di svaroschi e svaroschi da 4 mm a me piace faccio anche il ciondolo se non l'anello e secondo me sono veramente belli anche perché sono luccicosi da morire poi niente poi volevo farvi vedere veloce veloce un anello che sicuramente non si vedrà bene visto il colore che è un cuoricino l'ho realizzato questo diverso tempo fa però mi piace solo volevo realizzarlo in in bianco per il prossimo mercatino che farò e niente insomma questo è il tutto volevo dirvi che se riesco vi farò anche una specie di tutorial per realizzare questo bracciale visto che me l'avete chiesto niente insomma vedo cosa fare prossimamente vedete tutto intanto vi saluto e alla prossima ciao